Congratulazioni! Non è fantastico? Lasciami in pace! Oh, grazie mille! E ora, Troom Trick! Wow, che diamante! Avevate mai visto qualcosa di simile? È il momento del mio regalo! Divertitevi! Non fare complimenti! Va bene, è ora di andare! Ehi, chi era quello? Caro, che c'è che non va? Non lasciarmi! Ti prendo, Troom Trick! Torna qui! Che matrimonio! Lo sposo è qui! È ora di rianimarlo! Tieni duro, caro! Fammi controllare! Cos'è questo? Oh no! Ho avvelenato Boo! Hai sentito? Lo sapevo! Cosa? Non sono stata io! Beccata! Il detective Boo è in servizio! Ora vieni con me! Cosa? E tu chi sei? Torna qui! Chi è stato? È stata rabbia! Non sono stata io! Non scaldarti tanto! Non mi dispiacerebbe un marshmallow, però! Delizioso! Dallo a me! Ne voglio un po' anch'io! Mi sento meglio! Che stai facendo? Sei in arresto! Come osi! È stata lei! Non muoverti! Credo di poterti aiutare! Troom Trick! Potrebbe tornare utile! Fammi vedere! Forse possiamo trovare qualcosa! Ah, è stato Dog Day! Non è possibile! Prendiamolo! Troom Trick! Forza! Andiamo! Eccoci! Odore interessante! È commestibile! Cerca di seguire le tracce! Bene, eccomi! Sniff Sniff! Trovato! Da questa parte andiamo! Eccoci! Oh no! Deve essere l'assassino! Oh, siete tutti qui! Oh, ciao ragazzi! Prendiamola! Sì, agente! Oh, che bel cane! Vieni qui! Vuoi una grattatina? Oh sì! Ehi, che stai facendo? Me ne occupo io! Fermali, criminale! Sei accusata di omicidio! Era tua questa palla! Di che stai parlando? Ne manca una! Colpevole! Credo di sentire un odorino! Confessa! Dov'è? Lo sento! E non provare a mentire! Ehi, Dog Day! Dog Day! Oh no! Non va bene! È terribile! Povero Dog Day! Oh! Una mela! So a chi può appartenere! Mi dispiace di averti incolpata! So a chi è stato! Andiamo da The Light! Presa! Cosa? Lo sapevo che eri stata tu! Hai avvelenato Dog Day! Ma è solo una mela! Guarda! Allora mangiala! Bene! È deliziosa! Se vuoi potete mangiarne un po'! No, grazie! Ma sembra che il tuo amico abbia fame! Diamogli da mangiare! Ben fatto! È ora di andare! Avanti! Mangia! Com'era? Oh, caro! Ti è piaciuto? Wow! Sono felice di averti aiutato! Grazie! Che è stato? Perché mi stai facendo questo? Aspetta, caro! Si è incastrato! Oh no! La schiuma è finita! Guarda! Ragazzi, per favore aiutateci! Mettete un like al video! Così potremo salvare Pooh! Abbiamo davvero bisogno di voi! Non possiamo farcela! Impegniamoci tutti insieme e riempiamo l'estintore! Wow! Grazie mille! E ora spegniamo il fuoco! Ora va meglio! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! L'abbiamo salvato! È ora di calmarci! Grazie a tutti! È ora di usare l'arma segreta! Oh, guardate che carino! Wow! Voglio solo abbracciarti! Distruggi! Distruggi! Oh! Scappate! Salvatevi! Dobbiamo nasconderci da qualche parte! La resistenza è inutile! Sarete distrutti! Oh! E adesso che facciamo? Non lo so! Dobbiamo fermarlo! Ah! Facciamolo! È ora di fare i conti! Per un trick! Prendi questo, cattivone! Vieni fuori! È finita? Sì, batti il cinque! Oh no! Che c'è che non va? È terribile! Gioia! Questo non mi piace! Dov'è l'assassino? Certo! Forse il robot ha degli indizi! Sembra che ci sia di mezzo l'ansia! Quindi era lei? Più veloce, seguimi! Siamo arrivati! Ed ecco il criminale! C'è qualcosa che non va! Mi dispiace, non volevo mangiarlo tutto! Un osso duro! Sembra che ti sia caduto qualcosa! Oh, grazie! Sono solo un po' nervosa! Sai con me? Sì, ci sta prendendo in giro! Sei sospettata dell'omicidio di Gioia! Andiamo in prigione! Oh, aspettati un attimo! Che cos'è? Ciao! Oh, ciao tesoro! Chi è questo simpaticone? Che carino! Anche a me piace! Troom trick! Oh, credo di essere al sicuro! Vediamo cosa abbiamo qui! Quanti bottoni! Wow! Non muoverti! Lei qui non c'è! Oh, wow! E tu che sei? Dov'è ansia? Va bene! Proviamoli tutti! Credo funzionerà! Che stai aspettando? Gna 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 gna! Divertiamoci! Credo che abbia perso la testa! La gna la gna la! Prova a schivare questo! No, questo no! Non sparare! Non farlo! Ti sto implorando! Cos'è? Perché te ne stai limpia? Di avanti, balla! L'ho fatta ancora! Sembra che abbia trovato un partner! Ma guardale! Per favore, basta! Questo spettacolo è troppo bello per perderselo! Forza! Fatemi vedere! È esilarante! The Light, guarda! Ma chi è? Non lo so! Oh no! È arrivato il momento di scappare! Prendetelo! Quello è sicuramente il criminale! Andiamo! Non riuscirai a scappare! Trum trick! Cosa? Ancora? È stato più facile di quanto pensassi! Eccoti! Oh, sei di nuovo tu? Smettila! Sei in arresto! Ti ho detto di smetterla! Non puoi prendermi! Ora basta! Time out! Ho bisogno di riprendere piatto! Anch'io! È stato estenuante! Continuiamo! Ora ti prendo! Prova a schivare questo! Attenta! Oh, sei salva! Ok, è cioccolato! Ne vuoi un po'? Di che stai parlando? Oh, non ne voglio! Davvero! È cioccolato al latte! Ah, coprandine un po'! Ok, va bene! Dammelo! Perfetto! Ora non potrai scappare! Perfetto! Te la sei cercata! Adesso che dici? Guarda laggiù! È terribile! Il tuo tempo è scaduto! Un'ultima mossa e sei finito! Ha ha ha! Trum trick! Non muoverti! Non muoverti! Sei in arresto! Cosa? Che ti sia di lezione! Questo no! Ha! Ti ho beccato! Andrà in prigione, amico! Va bene! Mi arrendo! Ora va meglio! Così non potrai scappare! Sei legato! Ha! Te l'ho fatta! Cosa? Furfante! Prendiamolo! Devo scappare! Devo nascondermi da qualche parte! Oh! Un travestimento! Proprio quello che mi serve! Ehi! Hai visto un tizio vestito di nero? Oh sì! È andato là! Grazie! Che sciocca! È ora di finirla! Aspetta un attimo! Sembri sospetto! Aiuto! Lo sapevo! Fermati! Cosa? Ma dove è andato? Non può essere andato lontano! Qui non c'è! Neanche qui! Oh no! È scivolata via! È ora di andarsene! Perfetto! Questa era la mia occasione! Vediamo ora come ne esce! Sono un genio! Perfetto! È ora di scappare! Vediamo chi c'è qui! Oh, amico! Mi prenderà cura di te! Oh, aiuto! Battene da qui! Bene, bene, Pooh! Ci incontriamo di nuovo! Stavo aspettando questo momento! Canaglia! Pensavi che questa mi avrebbe fermata? È ora di vendicarmi! Oh, oh, oh! Sei patetica! Perdente! Prendiamolo! Cosa? Lasciami andare! Ciao, ciao! Per favore, aiuto, Pooh! Certo, tesoro! Spero che questo ti aiuti! Oh, sembra terribile! Guarda, si sente meglio! Oh, davvero! E questo? Che schifo! Che facciamo? Oh, ci penso io all'acne! Aspetta! L'ho riempito da poco! Dov'è finito tutto? Ops! Ecco a te, piccola! Perfetto! Ora penso io al tubo! Ok, ci sono quasi! Oh, un idrante! Finalmente! Ora dobbiamo collegarlo! Sembra che abbia funzionato! Vediamo! Fantastico! Piccola! Oh, l'acqua è tornata! Fantastico! E ora puliamo la casa! Troom trick! Ora va molto meglio! Adesso ti puliremo perfettamente! Come va? Wow! Sta andando alla grande! Che fine ha fatto l'acqua? È finita! Ce ne serve di più! Ma dovrebbe essercene di più! Fammi vedere! Oh, è finita! Ho un'idea! Ho bisogno di una consegna urgente! Ciao! Qual è il problema? Mi presti il tuo kit! Oh, prendi! Buona giornata! Ciao! Grazie, Doc! Vediamo! Dov'è? Wow! È incredibile! Ora possiamo sbarazzarci dell'ultimo brufolo! Troom trick! Oh, fantastico! Abbiamo finito! Evviva! Ora ti ho presa! No, piccola! Stai lontana da lei! Cos'è questo? Fermati la mia faccia! Non così! Grazie, Pooh! Sei la migliore! Ce l'abbiamo fatta! Come sta la casetta? Sta meglio! È fantastico! Batti il 5, socia! Sembra che alla casa manchino dei capelli! Guarda, ho alcune opzioni qui! Che ne pensi? Quale possiamo scegliere? Oh, wow! Troom trick! Wow, forte! Andiamo! Preso! Mettiamolo qui! Ups! Wow, che figata! Sì! Grazie! Ora sono davvero figa! Oh, oh, oh! Ha, ha! Perdenti! Vi sta bene! Oh no, è di nuovo lei! Povera casa! Mi dispiace tanto per te! Deve fare male! Fa tanto male! Che posso fare? Aspetta! Fammi controllare le condizioni! Oh, oh! Le cose si mettono male! Stai bruciando! Torno subito! Vado all'ospedale! Oh, spero che tornerai presto! Oh! Oh, ciao! Puoi aiutarmi? Certo, sorella Pooh! La mia amica non sta bene! Puoi aiutarmi con le medicine? Sta peggiorando! Ma certo! Lascia che ti aiuti! Questo è un caso serio! È vero! Ho bisogno delle medicine! Eccole! Troom trick! Prendi la pillola! È così grande! Grazie! Spero che guarisca il mio amico! Devo sbrigarmi! Ciao, ciao! Troom trick! Spero di aver fatto in tempo! Ecco a te, amico! Grazie! Mi sento già molto meglio! Sono così felice! Sei così carino! Che cos'è? Vedo che ti senti molto meglio! Ora possiamo toglierlo! Wow! È davvero incastrato! Devo pensare! Mi è venuta un'idea! Mi occuperò di questo cerotto in men che non si dica! Un attimo! Ora lo legherò! Perfetto! Fatto! Ora posso tirare! Meglio prevenire che curare ancora un po'! Ora possiamo iniziare! Toglietevi di mezzo! Stiamo arrivando! Grazie, Pooh! Sono felice di averti aiutato! Wow! Stai molto meglio! Ma non è ancora perfetto! Oh, ciao piccola! Ti sono mancata! Gnammi! È così gustoso! È un gelato? Lo vuoi condividere? Vuoi un marzo? Fai pure! Ce n'è ancora! E posso avere gli occhiali? Certo! Nessun problema! Eccoli! Sono proprio quelli che mi servono! Solo un paio di gocce e drum trick! Wow! Ha funzionato! Oh wow! Gnammi! Bene, amico! È ora di provare il tuo nuovo look! Uh, ti sta benissimo! Oh! Che cos'è? Piccola, posso? Abbiamo bisogno di un'altra trasformazione! Drum trick! Wow! Allora, Pooh! Vuoi fare uno spuntino? Oh, grazie mille! Penso che sia meglio se la casa non mangia più il gelato! Uh! Sì, i dolci fanno male ai denti! Devo trovare qualcosa per la casa! Ehi, come faccio a sistemare i denti? Mi dispiace, ma non sono un dentista! Che cos'è? Ehi, dottoressa! Può ricucirmi? Mi sembra di aver lasciato la testa a casa! Già, che sfortuna! E adesso come farò? Oh, Pooh! Devi aiutarmi! Cosa? Ora sono un medico anch'io! Va bene! Aiutiamo Catnap! A fare fatto! Per favore, siediti! Non preoccuparti! Andrà tutto bene! La testa è a posto! Proviamo ad attaccarla al collo! Sembra che vada bene! Come ti senti? Perché è così buio? Oh no! Stai bene! Non riesco a vedere nulla! Che sta succedendo? Scusa, lascia che ti aiuti! E ora che ne dici? Sembra perfetto! Oh, la mia testa! Oh no! Lo stiamo perdendo! Il suo battito si sta indebolendo! Dottore, che devo fare? Guarda alla tua destra! Wow! È proprio quello che serve! Ti rimetteremo in piedi! Forza! Troom trick! Finalmente! Sei di nuovo a posto! La mia testa! Oh, non muoverti! Ora ti aiuto! Dottore, grazie! Stavo iniziando a preoccuparmi! Oh, Doc! E per i denti? Hai qualche medicina? Ok, Pooh! Spero che questo possa aiutarti! Wow! Grazie! Dottore, sei il migliore! Ed eccomi qui! Prendiamoci cura di questi denti! Penso che questa quantità di dentifricio basti! Apri bene e iniziamo a pulire! Ora va molto meglio! E l'apparecchio per i denti? Occupiamoci anche di quello! Uh, vedo che ti senti meglio! Questo mi rende felice! Presto sarai in gran forma! Aspetta un minuto! Troom trick! Guarda un po'! Ora hai un piercing alla moda! Wow! Ti sta benissimo! Sei adorabile! Ora siamo abbinati! Non è fantastico? Grazie mille! Lo adoro! Oh! Ha ha ha! È ora di dire addio all'orecchino! Presto sarà mio! Ehi! Smettila! Va bene! È ora di darle una lezione! Uh! È pesante! Diamo spettacolo, Pooh! Mm! Piccante! Troom trick! Uh! Un drago! Ciao, ciao! Ottimo lavoro! Ops! Mi ero quasi dimenticata del tuo sopracciglio! Tesoro, giusto in tempo! Puoi aiutarmi a strapparle? Oh, certo! Ti aiuterò! Che bella stella! Sì, è per la casa! Ho pensato che le sarebbe stata bene! È meravigliosa! Posso avere le forbici? Ottimo! Tagliamo l'eccesso! Troom trick! Taglio delle sopracciglia! Oh, wow! Meglio raccoglierne un po'! Ce n'è abbastanza per fare una parrucca! Benissimo! Forte! Va bene! Ora va molto meglio! Wow! Hai raccolto tutto! Vediamo che possiamo farci! Beh, non molto! Forse possiamo farci dei baffi? Ma certo è geniale! Facciamolo! Ta-dan! Che ne pensi, casa? Mi sembra che questi baffi mi invecchino un po'! Sì, meglio cambiarli! Nessun problema! Dammi un minuto! Bene, preparati! Che ne dici di questo? Oh, ora sì che si ragiona! Credo gli piacciono! E ora scegliamo qualche vestito per lui! Che ne dici di questo? Oh, no! Sembra che la casa sia triste! Come facciamo a tirarti su di morale un attimo o un'idea? I videogiochi sono ottimi per sollevare il morale! Che ne dici di giocare? Tesoro, puoi partecipare anche tu? Fantastico, grazie! Tornerà subito! Oh, questo è interessante! Che pesce grande! Miau! Come faccio a prenderla? Apri! Miau! Che bella maglietta! Devo prenderla! Mi dai la maglietta? Che riceverò in cambio! Se me la dai, ti darò questo pesciolino! Mmm, grazie! E la maglietta? Assolutamente no! Ehi, non era questo l'accordo! Non mi è bastato! Ora mangerò anche te! Ti prego, smettila! Ti sopplico! Va bene! Te la sei cercata! Troom trick! Che è stato! Non funzionerà! Sei nei guai! Arrenditi! Bene, bene! Prendi! Ma non farmi male! Ora va meglio! E mi raccomando! La 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 la! Wow! Sembra che tu ti stia divertendo! Oh! Ah, wow! Aspetta! Piccola, guarda chi ha trovato! Proviamola! Ta-dan! Penso che sia troppo piccolo! Sì, non è della mia taglia! Però è bellissima! Va bene, ci penso io! Le gocce di crescita ci aiuteranno! Troom trick! Ha funzionato! Che bello! Ho sempre sognato di averne una! Grazie! Basta così! Sono qui per occuparmi di voi perdenti! Ha! Oh no! La mia schiena! Non di nuovo! No, no, no! È terribile! Devo aiutarla! Che c'è che non va? La mia mano è gonfia! Fa molto male! Lascia che ti aiuti! Poverino! Lascia che ci soffi sopra! Aspetta! La parto in ospedale! Facciamo in fretta! Ehi, dottore! Puoi aiutarla? Mi fa tanto male la mano! Dottore! Ti aiuto io! Avvicinati! Certo, Doc! Troom trick! Oh, capito! Guarda, piccola! Una sostituzione e niente male! Pronta? Wow! È come nuova! Assolutamente! E ora tieni duro! Troom trick! Wow! Che figata! Sì! Ancora meglio di prima! Sono felice di averti aiutato! Questo è per te! Sei davvero forte! Grazie! Ci vediamo presto! Stammi bene! Ehi! Hai fatto un ottimo lavoro! Vuoi essere la mia assistente? Davvero! Mi piacerebbe tanto! Aiutare è ciò che so fare meglio! Iniziamo! Ed ecco che arrivano i pazienti! Venite pure! Finalmente! Per favore mi aiuti! Non preoccuparti! Fammi dare un'occhiata! Oh! Non ha un bell'aspetto! Hai visto? Uh-huh! Prendilo! Perfetto! Ora inseriamo la pompa e riportiamo tutto alla normalità! Tieni duro e gonfiamo! Uh-huh! Si calmi, dottoressa! Wow! Grazie! Le sono molto grato! Questa tosse non se ne va! Mmm! Ho un'idea! Ehi, Pooh! Aiutami! Room trick! Oh, grazie! Questo va bene! Uh! Non lo faccia! Spero che questo ti faccia sentire meglio! Ora respira! Wow! È un miracolo! Room trick! Oh! Catnap, smettila! Ok, ora va meglio! Puoi andare? Per favore! Andiamo, Hoppy! Aspetta, voglio ringraziare il dottore! Questo è per lei! Wow, che bello! Oh, Miss Delight! Come va? Per favore, mi aiuti! Deve far uscire Barb! Non si preoccupi! Casa? Alla ricerca dello strumento! Grazie! È affilato! Proprio quello che serve! Non muove! Ti ci penso io! Ora la tiro fuori! Oh, aspetta! L'altra parte! Sì, ce l'ho fatta! Wow! La mia testa va meglio! Grazie, dottoressa! E ecco la sua mazza! Wow! Fantastico! Grazie mille! Prenda un dolcetto! Wow! Pollo fritto! Grazie, Miss Delight! Ehi, amico! Questo è per te! Così nutriente! Mi sento già più forte! Oh, wow! Ti abbiamo fatto salire di livello! Wow! Congratulazioni! Anche tu mi hai aiutata molto! Oh, cos'è questo rumore? Aspetta! Chi ha bisogno di aiuto? Ehi, venite! Oh, no! Quanti pazienti! Non muovetevi! Ho solo una domanda veloce! Ehi, ma c'è la pila! Dove pensa di andare? Torno subito! Ehi, Dog Day! Aspetta! Aus! Per favore aiutami a rimuovere la trappola! Troom trick! Preso! Proviamo ad usarlo come leva! Ugh! Forza! Apriti! Wow! Purtroppo non ha funzionato! Barbe ti aiuterà! Troom trick! Ups! Sono di nuovo libero! Grazie! Ti regalo questo divertente robottino! Wow! Grazie! Ehi, amico! L'hai visto? Fammi vedere! Mettilo sul tavolo! Certo! Oh, oh, oh! Bagliamo tutti! Fantastico! Abbiamo aumentato il livello di Poo! Che bello! Congratulazioni! Chiamo anche gli altri! E tu sarai la mia nuova infermiera! Ti sta davvero bene, Delight! Oh! Che sta succedendo alla casa? Pozione rimpicciolente! Oh no! È terribile! Aiuto! Che dobbiamo fare? È terribile! Oh, Barb! È arrivato il tuo momento! Dobbiamo togliere tutta l'elettricità! Oh! Poo! Sono stato beccato anch'io! Che dobbiamo fare? Dobbiamo scaricare la corrente! E io devo ricaricare il telefono! Perfetto! Wow! Si è fermato! Grazie, Poo! Ora, aiuta Gioia! Prendi il telefono! Oh! Ricarica wireless! Buona idea! Davvero funziona! Ottimo lavoro, infermiera Delight! Finalmente è finita! Oh! Ora va tutto bene! Sono felice che tu sia venuta! Lascia che ti abbracci! Ups! Dove sono andati? Trumtrick! Per favore, aiutaci! Ma perché ha due teste? Mi ha cresciuta una seconda testa e non so che farmene! Casa? Che dobbiamo fare? Un secondo Trumtrick! E a che serve il laser? Oh! Guarda! Una luce! La prendo io! Vuoi un pesciolino? Dai, seguimi! Oh! Luce! E il pesce! Miau! Voglio il pesce! Ehi! Non ti importa più della luce? Non esiste! Non interrompermi! Oh! Sta per prenderla! Oh! Sono libero! L'ho presa! Guardate! Buon lavoro, Catnap! Continua così! Oh no! Abbiamo un problema! Oh! Casa? Ah! Non mi sento bene! Ti siamo così grati! Le parole non bastano ad esprimere quanto! So come puoi aiutarci! Ehi! Possiamo fare un accordo? Non preoccuparti! Ti spazzolerò il pelo! Quanto pelo! Wow! Spero che sia sufficiente! Ottimo lavoro, Delight! E ora puliamo le macchie! Spero che tutto ti senta meglio! Sì! Molto meglio! Uh-uh! Stanno di nuovo tutti bene! Addio! Cosa? Oh! Così soffice! Ah! Ah! Aiuto! E se avessi la rabbia? Sembra un brutto morso! Esaminiamolo! Dobbiamo curare la ferita! Diamo un'occhiata! Oh no! Hai ragione! Più in fretta! Metti la mano qui! Va bene! Vediamo che cosa abbiamo! Ok! La radiografia è pronta! Oh! Guardi la scansione, dottore! Sembra che il polso sia ferito! Ma non c'è da preoccuparsi! È Miss Circle! Troom trick! Oh! Che succede? Ti è dalla, dottoressa Poo! È ora di aggiornarsi! Cosa? No! Miss Poo? Tieni duro! Questo farà male! Oh! Ancora qualche punto! Ma quanto tempo ci vorrà! Puoi rilassarti! È fatta! Wow! È incredibile! Dottoressa, lei è la migliore! Ecco! Prendete questo! Una Coca-Cola! Ecco a te, casa! Wow! Siamo saliti di livello! Oh! Bene! Arrivederci! Oh! Ma dove vai? Ehi! Siamo qui! Aiutatemi a recuperare la vista! Ma certo! Ti aiuteremo! La pistola della gente mi ha accecata! Non vedo più niente! Ok! Non preoccuparti! Sistemeremo tutto! Eccoci qui! Pronta! Stai ferma! Oh! Fantastico! Ora posso vedere di nuovo! E posso guardare in tutte le direzioni con una visione a 360 gradi! Felice di averti aiutato! Oh! Non posso stringerti la mano! Qualcosa non va nelle mani? Oh! Sposta gli occhi indietro! Ok! Ci penso io! Voilà! Va meglio? Molto meglio! Grazie, dottoressa! Stammi bene! Oh! Che cos'è? Una lampadina! Mettiamola nella casa! Ottima idea! Ecco a te, casa! Wow! Abbiamo raggiunto un altro livello! Oh! Ma che succede? Dobbiamo spegnere il fuoco in fretta! Controlliamo la temperatura! Oh no! Sta bruciando! E sembra grave! Andiamo dentro! Troom trick! Ahah! Ne ho abbastanza! Non ce la faccio più! In fretta! È lui la causa dell'incendio! Troom trick! Se continua così esploderò! Che succede? Puh! È scarico! Ho un'idea! Troom trick! Uh! Chi è stato? Lo sapevo! Siete nei guai! Calmati! Oppure te ne pentirai? Come lo riempiamo? Oh! Ci sono! E ragazzi, aiutateci a riempire l'estintore! Per favore, mettete un like! Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Per favore, mettete un like! Abbiamo davvero bisogno di voi! Non muoverti! Fantastico! Continuate! Grazie! Grazie mille! E ora spegniamo il fuoco! Troom trick! Ottimo lavoro! Mi avete calmato! Grazie! Senza di voi sarei bruciato! Siete i migliori medici di sempre! La mia gamba! Per favore, non lasciarlo andare! Che bella sensazione! Siamo arrivati in tempo! Wow! Cos'è quel pulsante? Lo premerò solo una volta! No! Non parlo! Visto? Ti avevo avvertito! Sto bene! Oh no! La mia mela! Si è rotta! Fammi dare un'occhiata! Ehi! Ma dove sono andati? Troom trick! Esaminiamo la mela! Aiutatemi ragazzi! È terribile! Non possiamo lasciarla così! Non preoccuparti! Mi prenderò cura di te! Mettiti comoda! E ora prepariamo la macchina! Dottoressa! Dottoressa! Io credo in lei! E' una nostra paziente! Torna qui! Dottoressa! Lei è fantastica! Qual è il suo problema? Ce lo dica! Il fatto è che mi prude la schiena! Che incubo! Non devi stare troppo vicino ai bersagli! Dobbiamo rimuovere le frecce! Credo di avere un piano! Ehi casa! Puoi aiutarci? Ed ecco il tabellone! Fantastico! E possiamo giocare! Stai fermo, Aggie! Questa è l'ultima! Fantastico! Ora il nostro paziente è al sicuro! Grazie! E-e-ciu! Vuoi un giocattolo? È fresco! Che sacrificio! Aus! Prendilo! Uh-huh! Un altro livello in più! Fantastico, dottoressa! Aiuto! Te la sei cercata! Uh-huh! Non la faccia! Sono così arrabbiata! Siete tutti nei guai! Uh-huh! Ops! Chi è il prossimo? In fretta! Prendiamola! Uh-huh! Sei! Delight, dammi questa mazza! Qualcuno potrebbe farsi male! Dobbiamo scoprire che succede! Il battito cardiaco è elevato! E anche la respirazione! Ma certo! Ha bisogno di un reset! Oh! Delight, tutto bene? Che è successo? Grazie! Mi hai salvata di nuovo! Ciao! Oh! Il tuo piede! Non preoccuparti! Non è niente! Oh! Uh! Tieni duro! Ti aiuto! Che c'è che non va? So cosa fare! Vieni fuori! Puoi farcela! È troppo profondo! Casa, puoi aiutarmi? Ma certo! Trum trick! Grazie, amico! Se l'iniamo, non farà più male! Wow! Ha funzionato perfettamente! Uh! Pessima idea! Oh! Oh! Ma che succede lì? Non preoccuparti! Andrà tutto bene! Lo pascerò! Ok! Ora va molto meglio! Ah! Fa ancora male! Sul serio! Aspetta un attimo! Ehi, Hoppy! Ciao! Ma dove sarà? No, questo non va bene! Ma che sta succedendo? Uh! Una barretta di cioccolato! Uh! Forte! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente l'ho trovato! È perfetto! Le piacerà tantissimo! Gnom! 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 Oh! Ma che succede? Uh! Non riesco a stare in piedi! Che facciamo adesso? Aspetta un attimo! Ehi, Pooh! Guarda che cosa ho trovato! Ora sarà più facile spostarsi! Wow! Forte! Ora va molto meglio! Uh! Sto cadendo! Devo stare attenta! Oh! Ops! Ho dimenticato qualcosa! Ma certo, Hoppy! Solo un attimo! Sto arrivando! Dottoressa, mi aiuti! La mia carota! Me la dia! Non riesco ad alzarmi a causa dell'orecchio! Va bene! Ora ti aiuto! Ecco la tua carota! Buon appetito! Oh! Le sono così grato! Felice di essere stata utile! Ciao! Un attimo! Sì? Che succede? Forse puoi aiutarmi anche con l'orecchio? Oh! Certo! Vediamo cosa abbiamo qui! Questo no! Questo potrebbe tornare utile! Non stavolta, però! Mi ero quasi dimenticata di te! Che dolce! Va bene! Cos'altro abbiamo? Perfetto! Un blaster che riduce le dimensioni! Predisponiamolo e... Iniziamo! Hoppy, sei pronto? Per favore si sbrighi! Va bene! Sorridi! Dottoressa, la pagherò qualsiasi cifra! Oh! Una pioggia di soldi! Trum trick! Oh! Il mio orecchio! Ora è troppo piccolo! Non funziona! Mi serve di dimensioni normali! Nessun problema! Trum trick! Che bello! Grazie! Ed ecco la sua ricompensa! Grazie, Hoppy! Te ne sono molto grata! Wow! È un'altra matita! Fantastico! È perfetta per la mia mazza! Sono così fortunata! Ecco a te, piccola! Oh! Freddy! Oh! Dottoressa! Me li tolga di dosso! Più in fretta che può! Non ce la faccio più! Tieni duro! State lontano da Freddy! Fai attenzione! Oh! Presa! Un'altra! Prendi questo! Ce l'abbiamo quasi fatta! Grazie mille! Ora sembra incastrato in me! Vediamo! Oh! Non preoccuparti! Oh! Facile a dirci! Chica si prenderà cura di te! Ragazzi, non scherzate mai con le api! Possono essere pericolose! E ora affrontiamole! Non muoverti! Troom trick! Oh! Che male! Dobbiamo solo rimuovere tutto il veleno! Ancora un po'! Fatto! E ora un cerotto! Guarirà presto! Oh! Che dolce! Dottore, lei è miracolosa! Grazie! Oh! Aiuto! Ehi, ma di chi è questa voce? Ascoltiamo! Strano! Oh no! C'è qualcuno! Potrebbe essere un bambino! Wow! Credo che dovremmo far uscire il bambino! Forza, piccolo! Ehi! Aiuto! Solo un attimo! Ti tiro fuori! Oh! Allora sei stato tu a mangiarmi! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Questo è per avermi salvata! Beh, grazie mille! Ciao! Ora stai molto meglio! Freddy? Un attimo! Dov'è la mia testa? Pronto? Cosa? Sto arrivando! Allora, chi ha bisogno di me? Oh oh! Perdente! Andate via! Forza, vieni qui! Ehi! Che state facendo? Siamo i ragazzi più feghi in circolazione! Facciamo come vogliamo! Allora anch'io lo farò! Oh! È pazza! Ho solo bisogno di qualche donatore! Siediti! Ho paura! E adesso che farà? Ora lo scoprirete! Tremtrick! Oh! Aiuto! Vi sta bene! Anzi, benissimo! Per favore ci perdoni! Scappiamo subito! Non abbiamo ancora finito! Allora, continuerete a creare problemi? No! Faremo i bravi! Fantastico! Questo è per lei, signorina Delight! Oh! Vedo che state maturando! Grazie! Miss Delight! Non la dimenticheremo! Oh! No! Non fatelo! Addio! Che cattivoni! Sono tutta bagnata! Non ci credo! Sono persino riusciti ad entrare nel mio cappello! Beh, almeno ho la matita! Chi è? Signorina Delight, per favore mi aiuti! Oh! Sei tu! Ma certo ti aiuterò! Diamo un'occhiata alla temperatura! Oh! Non preoccuparti! Solo tre secondi! Vediamo! Oh! So qual è il tuo problema! Possiamo rimediare! Che vuol dire? Ora va meglio! Dove sei? Non avrai più bisogno degli occhiali! Apri bene gli occhi! Troom trick! Wow! Che figo! Grazie! È troppo presto per gioire, tesoro! È arrivato il momento di un restyling! Sì! Facciamolo! Allora andiamo! Mi sto divertendo un mondo con te! E ora facciamo l'acconciatura! Vediamo dove posso trovarla! Forse qui? Oh! Porta sbagliata! Forse qui? Oh! È occupato! Ops! Scusa, tesoro! È stato imbarazzante! Oh! Questo è l'armadietto di Kissi! Guarda! Wow! Che parrucca perfetta! Oh! Pensavo non ce l'avremmo fatta! Aspetta! Non è tutto! Dobbiamo migliorarla un po'! Esattamente! Oh! Penso stia venendo fuori benissimo! Fatto! E ora proviamola! Wow! Mi piace tantissimo! Fantastico! Ora possiamo spuntare un'altra voce! Fatto! Sei una ragazza così intelligente! Attenzione! No! Non così! Mr. Light è veramente cool! Guarda! Ho un regalo per te! Fammi vedere! Wow! È molto carino! Possiamo aggiungere qualcosa? È una figata! Aggiungiamoli! Eccellente! Ho un po' di colla e avremo un grande collage! Guarda questi adesivi! Che ne pensi? Oh! Questo no! No! Il mio disegno! Scusa, tesoro! È stato un incidente! Non preoccuparti! Sistemerò tutto! Ho un'idea! Sorridi! Ora saremo come due gemelline! Ti stanno benissimo! Ti piacciono? Certo! E ora dobbiamo pensare al trucco! Un altro punto è completato! E ora passiamo alla mazza! Mmm! Presa! Tieni questo! Torno tra un po'! Ci vediamo! Per favore lasciami in pace! Non ti ho fatto niente! Non muoverti o sarà peggio! Allora che succede? Augie! Questa volta la colpirò! Prendi qua! Perché? Ecco, Augie! Sei nei guai! Ne ho ancora! Cosa deve essere la mia immaginazione? Lanciamo! Sorpresa, Augie! Scusa! Non lo farò mai più! Troppo tardi! Per favore, no! Non farai più male a nessuno! Che paura! Non lo dimenticherai più, eh! Di che stavamo parlando? Wow! Penso di poterlo usare! Ma certo, il bambino ha bisogno di una mazza! Sembra perfetto per la base! E ora il trucco! Fantastico! Il manico è pronto! E ora servono le punte! Via le piume! Ecco quello che serve! Tagliamole a metà! Troom trick! Meraviglioso! Le incolleremo con la pistola per colla a caldo! Vediamo! Sta venendo benissimo! E ora il resto! Fatto! Proprio come la mia! Ora sono due volte più pericolosa! Vai, piccola! Guarda che ti ho portato! È quasi asciutto! Oh! Mr. Light! Ecco a te! Wow! Che bella mazza! Ora non ho più paura di nessuno! Grazie! Tesoro, fai attenzione! Potresti farti male! Aspetta! Ma? La sicurezza prima di tutto! Un casco! Ora ho anche la protezione! E non è abbastanza! Ora va meglio! Sei pronta per l'addestramento! Attenta alla mazza! Troom trick! Una mazza boomerang! Ora tocca a te! Ho capito! Troom troom trick! Piccola, fermati! Persino io ho paura di te! Un solo colpo basterà! Ok! Troom trick! Wow! Abbassati! Il mio scivolo! Ma che cos'è? Che forza! C'è qualcuno qui? Lo prendo io! Oh! Caglia! Ti piace? Hai sicuramente del talento! Ma fai attenzione! Grazie! Tutto questo va bene! Ma credo che dovremmo ripulire questo casino! Oh! Ho tanto sonno! Allora vai a dormire, cara! Oh! Ci è mancato poco! Shhh! Ora io pulirò! Oh mio Dio! Quanta polvere! E ciù! Io darmo! E ciù! Oh! Che forza! Così! Farò solo più caldo! Casino! E ciù! Che è successo? Stai bene? Scusa! Non volevo svegliarti! Eccoli! Hai sentito? Hai sentito questo odore? Oh no! Non cut nap! Beccata! Stai lontano da me! No! Tu verrai qui! Mr. Light! Si svegli! Ragazzi! Per favore! Mettete un like a questo video! Dobbiamo svegliarla! Vieni qui! Sbrigatevi! Vi prego! Mettete un like o mi prenderà! È ora che tu vada nel sacco! Oh! Ragazzi! Ancora un po' di più! Vi prego! Questo no! È ora di andarsene! Ehi! Un attimo! Dove è andato? Ecco! È andato da quella parte! Ecco qua! Sei nei guai! Aspettami! Sei di nuovo alle prese con vecchi trucchetti! Prendi la palla! Di che hai paura? Forza! Vai! Ti prego no! Ho paura! Rilassati! Tre punti! Oh! È esilarante! Non ce la faccio! Bene! Bene! Stavamo solo giocando! Beh! Ciao! Giochiamo anche noi! Ok! Ora guarda il para! Sono una maestra del dribbling! Ti darò un vantaggio! Eh? Ok! Wow! Lanciamo! Wow! L'hai mancato! Perdente! Non è poi così forte, vero? Non è giusto! Non ridere! Hai vinto tu! Che meschino! Grazie mille! Come faccio a dimostrarti la mia gratitudine? Oh! Vuoi un top? Prendi questo! Grazie! Oh! Molto utile! Nessun problema! Ciao! Piccola! Dove sei? Penso che sarà molto felice! Ciao! Oh! Ero già in pensiero! Guarda che cos'ho! Che bello! È un top come il tuo! Ma ora è il tuo! Forte! Spuntiamolo dalla lista! Fatto! E ora mangiamo! Eccomi! Oh! Buon appetito! Anche a te! Ops! Sembra che abbiamo fatto un po' di casino! Dobbiamo ripulire tutto! Aspetta! Oh! Un'idea! Manichino! Vieni con me! Perfetto! E ora facciamo una gonna con un modello originale! Che sta facendo? Ora ti farò una gonna a po' proprio come la mia! Un po' di vernice e sarai la regina della moda! Ecco fatto! Ancora un po'! Interessante! Tesoro! Guarda che bella! Vuoi provarla? È proprio della tua taglia! Provala! Wow! Mister Light! Te la è! È fantastica! Grazie mille! Ora la gonna è sistemata! Che resta? Il piocco! Trum trick! Che ne pensi? Ha trovato il tessuto! Fantastico! Torna subito! E poi gliel'ho fatta vedere! Bam! Wow! Speciale! Andiamo a fare uno scherzo a qualcuno! Incogliamo le dita dei nerd! Però... Aspetta! Ho un'idea migliore! Ehi! Sbrigati! Arriva qualcuno! Corri! Un attimo! Dov'è il piocco? Guarda la signorina Delight! Oh! Ricordo che l'avevo messo nell'armadietto! Forse è qui? Ah! Sì! C'è cascata! Qui? Chi è stato a fare questo? Forza staccati! Sì! Ce l'abbiamo fatta! E ora corri! La mazza prendila! Ehi! Perché è così pesante? Non riesco a sollevarla! Ma che aspetti? Vuoi aiutarmi? Ma certo! Ti aiuto! Che ingenui! Ha funzionato! Continua! E ora fallo! Non ce la faccio! Scusa! È stata la mazza! Che imbarazzo! Ma sei vivo? Non riesco a controllarla! Oh! Sogni d'oro, ragazzi! State lontano dalla mia mazza! Ciao, ciao! Tesoro, sono qui! Guarda, ho fatto una cravatta! Wow! Sei stata così brava! Oh, ti sta bene! Spuntiamo un'altra voce! Sono pronta! Fatto! Wow! Bravissima! È ora di insegnarti la cosa più importante! La camminata zombie! Wow! Proviamola! Ti spiego tutto! Prendi qualcosa di pesante, allunga le braccia e trascinati dietro! Hai capito? Così? No, non proprio! Tieni le braccia dritte! Ok! Va meglio ora! No, troppo dritte! E allora come? Ci sono! Con i pesi sarà più semplice! Ti aiuteranno! Oh, mio Dio! Prova! Oh! Oh! Oh, sei senza speranza! Sì, ce la posso fare! No, non c'è bisogno di ripeterlo! Ripeti la mia espressione! Così? Incredibile! Sei brava! D'accordo, ti sei guadagnato un'altra spunta! E ora riproviamo! Ok! Stai andando alla grande! Ehi, rossa! Cerchi i guai! Vi prego, non fatelo! Poveri libri! Ehi, chi c'è? Eccomi qui, ragazzi! Peggio per voi! Cosa? Miss Delight si è clonata? Forza, tesoro! Credo in te! Ricorderanno questo giorno per sempre! Questo sarà il loro incubo! Che succede qui? Troom trick! Abbassati! Non potrai nasconderti da me! Ho paura! E adesso che facciamo? Si avvicina! Ecco, tesoro! Vai! Ti prego, non colpirmi! Dobbiamo scappare! Non ci riuscirete, ragazzi! Cosa? Miss Delight! Pensavate che mi fosse dimenticata di voi? Alzatevi! Che succede? Per favore, basta! Forza! Allora, che ci farà adesso? Dai! Toglietevi questi stracci! Fantastico! Ora tutti i bulli rideranno di noi! E ora, mettetevi a pulire! Cosa? Ed è meglio se vi impegnate, perché io vi controllerò! Di più! Miss Delight, puoi controllare? Disgustoso! Voglio lanciargli là addosso! Cos'è il tetto? Niente scusa! Perfetto! Ben fatto! È una A! Grazie! Oh, a proposito! Oh, grazie il piacco! Darò una lezione a quel nerd! Non pulisco da solo! Qui si sta bene! Dov'è il nostro piccolo ospite? Qui? No! Forse è qui! Oh, no! Dov'è andata? Ti troverò! Oh, no! Pensavo che non sarebbe tornato! Spero solo che non mi trovi! Che devo fare, Kissy? Oh, è così spazioso! Non facciamoci trovare! Me la vedrò io con lui! Penso che se ne sia accorto! Ciao! Oh, no! È grosso! Non mi sento tanto bene! Tutto qui? Vorrei poter raggiungere l'arma! Lo affronterai facilmente! Ho capito! Prendilo! Un pirillo? No, serve un'altra arma! Ok, ora te la do! Un pollo? No! Ok, ora basta! C'è qualcosa che non va? Ma che state facendo? Ho chiesto un'arma! Perché non la vedi? Oh, avresti dovuto dirmelo! Continuiamo! Avanti! Con piacere! Allora, questa! Prendila, Kissy! Una palla! Ma stai scherzando? Oh, una palla! Ora ti prendo! Cosa? Ha funzionato! Oh, ci è mancato poco! Cut'n'up! Oh, no! Ok, ti lascio stare! Ottimo lavoro, tesoro! Oh, oh! Kissy, torna qui! Non così in fretta! Oh, no! Spero che non se ne accorga! Sono tornato in pista! Dov'è Cut'n'up? Che schifo! Niente di utile! Oh, sei un uovo! Spostati! Che maleducato! Ti insegnerò le buone maniere! Wow, che braccia! Non tirarle! Limbo! Ce l'ho fatta! Pensi che voglia giocare con te? Assolutamente no! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace ed iscriverti!